Che differenza c'è tra moneta in contante e elettronica? Il denaro contante che noi utilizziamo tutti i giorni per piccoli importi, per far acquisti, bene o servizi, una volta smarrito non potrà più esserci riconosciuto. Ricordiamo che il denaro contante non è tracciabile. La moneta elettronica non è alta invece che la smaterializzazione del denaro contante messo su un dispositivo elettronico, quindi su una carta prepagata, che ci consente di utilizzarlo immediatamente per fare acquisti presso esercenti e presso esercizi online.